Quanto fa pensare? è che il ruoto cannazino è qui si può fare la torre dei controlli quindi il auto non ha bisogno di tutto per migliori credo che i autos saranno la maggioranza aerodinamica e i autos saranno più legati al piso e io credo che il spazio che si genera non ha dato la possibilità reglamentariamente di mettere un elemento deformabile una segurezza deformabile che va a traslacare il campo laterale il pubblico mi pareco è molto bene perché stiamo parlando di questo sarasto come dice il passo è la prima medida che abbiamo la tornata mi parecchia è saltata poi poi abbiamo una seguna medina che si tengo il tren di materiali che è deformare se un'auto si usa dentro di diienes va a traslacare il contorno e poi adesso il suo unione non lo più importante Noi stiamo involucrando a tutti, perché ci ci stanno aiutando, stiamo cooperando con tutti, e non solo per il rispetto del stato, ma arriviamo a molti spettatori che sono veramente complicati, con il risultato molto per l'arrivo, non solo per la CCC, non solo per il risultato, trovo diciamo che, c'è qualcosa che si sta imparando su supermane, e non solo per i risultati unicolo, ci sono più quelle delle mani spettatori che, No, non, non. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.